così ma ma tu ti stai rendendo conto di quello che è successo no ma non mi rendo conto perché è successo talmente velocemente che non ho avuto ancora il tempo di capire innanzitutto quali sono le ragioni vere e proprie e poi così un botto arriva una notizia come un fulmine a ciel sereno esonerati nel giro di un paio d'ore io se dico la verità pensavo che si potesse risolvere dal punto di vista della comunicazione ma si anche perché non era manco la prima volta che c'era aria di tempesta se così vogliamo dire tra Maldini quindi i dirigenti e la proprietà però alla fine si era sempre risolto più o meno tutto quanto io ho la memoria corta e non me lo ricordavo non era la prima volta che Maldini entrava in conflitto questo me lo ricordo però posso anche capire che ci possono stati i conflitti eccetera ma ad arrivare addirittura a questo punto nel giro di poche ore significa che è una frattura insanabile ma voi capite bene che cambiano anche quelli che sono i piani futuri del Milan a livello dirigenziale a livello di coloro che sceglievano praticamente i calciatori da acquistare quasi anche con carta bianca mi verrebbe da dire ma sì perché era così perché avevano quasi pieni poteri era così se poi ovviamente ci sarà sempre stato il veto finale da parte della proprietà da parte della società che sono quelli che cacciano i soldi però secondo me assolutamente si erano affidati in una maniera non so se avete capito ma lo avrete capito dal titolo Maldini e Massara lasciano in Milan con effetto immediato siamo qui per commentare ovviamente la notizia per leggere l'articolo di Sky Sport e per cercare di proiettarci a quello che potrebbe essere il futuro perché poi gioco forza come dicevo poco fa cambiano completamente i piani del Milan le scelte che verranno fatte ciao ben ritrovati ragazzi vi chiediamo di lasciare mi piace semplicemente per supportare i nostri contenuti calcistici vi ricordiamo che è gratis non costa assolutamente nulla potete anche iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa ovviamente vi ricordiamo che abbiamo due, ben due canali di calcio se non ci seguite su entrambi tanti contenuti importanti ve li perdete abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio quindi non vi facciamo mancare assolutamente nulla comunque trovate tutti i canali qui sotto in descrizione o durante il video compariranno qui Paolo Maldini e Richi Massara lasciano in Milan si attende soltanto l'ufficialità ma la decisione è stata presa dalla proprietà che ha esonerato i due dirigenti scusatemi entrambi legati al Milan con un contratto fino al 2024 nella mattina di lunedì in un hotel in pieno centro a Milano c'è stato un incontro tra Maldini e il proprietario del club Jerry Cardinale nessun confronto ma solo una veloce comunicazione da parte del numero uno di Redbird che ha dato notizia dell'esonero del responsabile dell'area tecnica e del direttore sportivo Richi Massara il Milan non dovrebbe sostituire i due dirigenti con nuove figure ma optare con una soluzione interna con più poteri all'amministratore delegato Furlani e al capo scouting Moncada andiamo avanti vabbè bandiera da calciatore Maldini era tornato al Milan nell'estate 2018 nove anni dopo il suo ritiro assumendo il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport nel 2019 dopo le dimissioni di Leonardo Maldini è diventato il responsabile dell'area tecnica insieme a Massara Maldini ha costruito la formazione che ha vinto e questa è la cosa più clamorosa ragazzi che qui vai a stravolgere se crea un terremoto per una squadra che era stata costruita a dovere grazie soprattutto a Maldini e a Massara e che li aveva portati nel breve medio periodo a passare da Gianpaolo a vincere lo scudetto con Pioli io rimango sconvolto Maldini ha costruito la formazione lo rileggo che ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022 riportando il tricolore a San Siro dopo 11 anni e conquistando così il suo primo trofeo da dirigente Maldini che ovviamente ha voluto fortemente il rinnovo di Leao rinnova Leao nel giro di poco tempo è l'ultima eredità l'ultima eredità lasciata da Maldini e qui dobbiamo capire per quanto poi si stava parlando nel pomeriggio in tarda serata in realtà prima serata si stava parlando di vedute differenti si esatto quindi si stava parlando di non sembrava così allarmante la situazione poteva anche si poteva anche ipotizzare ma non così rapidamente pensare che da vedute differenti a esonero a frattura completa e insanabile nel giro di un attimo veramente ce ne passa si dice che Maldini chiedesse più poteri decisionali o comunque di mantenere quella linea probabilmente la società non si è trovata o vogliono far pagare tra virgolette a Maldini la proprietà sta cercando dei capri espiatori non gli ha fatto passare la sconfitta con l'Inter in Champions le sconfitte con l'Inter ma non solo in Champions ricordiamo il quarto posto che è arrivato ma che non ci fosse stata la penalizzazione per la Juventus sarebbe stato quinto posto per il Milan per una squadra che deve difendere un tricolore conquistato qualche mese fa 20 punti di distacco dal Napoli primo insomma non è stata proprio un'annata delle migliori tu pensi che dietro tutto questo ci sia anche questa situazione o invece semplicemente un litigio no 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 secondo me c'è qualcosa è l'insieme di cose ma soprattutto mi domando e chiedo ieri Ibrahimovic oggi Maldini e Massara se sta rifanando un'altra volta nuova rivoluzione domani Pioli no no dici no siamo sicuri al 100% proprio sicuri che Pioli stai lanciando una provocazione che non mi sento di smentire sì perché è un parere suo ovviamente fino a prova contraria a questo punto non tanto per Ibrahimovic ovviamente è una scelta che ha fatto lui completamente indipendente da quello della società eccetera se ritira e basta allora sembrava si potesse aprire un ciclo dopo la vittoria dello Scudetto e si pretendeva dal Milan altri risultati che non sono arrivati e quindi così improvvisamente facciamo piazza pulita ripartiamo con un nuovo progetto però capisci che secondo me è rischioso fare una cosa del genere è rischioso però chi può dirlo ce lo dimostra lo stesso Napoli che in due anni con Luciano Spalletti vince lo Scudetto ce lo dimostra lo stesso Milan in realtà però tu capisci bene che proprio perché ti ha detto bene una volta è meglio che non lo stesso Milan ci dimostra che l'anno scorso vince lo Scudetto quest'anno mantenendo la stessa ossatura i risultati non sono arrivati io non vorrei che forse c'è qualcosa di più sotto o magari uno dei motivi del litigio potrebbe anche essere Maldini e Massara che volevano difendere a tutti i costi l'operato di Pioli non sono riusciti nel loro intento vengono esoterati loro per primi e a breve ci sarà la comunicazione su Pioli è tutto un film che mi sto a fare io è tutto un film secondo me è più a livello dirigenziale perché poi Maldini comunque c'è una personalità forte probabilmente lo sapete come ragione Maldini o mi fai lavorare come dico io o non se ne fa più nulla però è arrivato l'esonero è arrivato l'esonero da parte della società non è de comune accordo Maldini che dice no no me faccio io da parte o riscindiamo in maniera consensuale da ambo le parti come sembra puoi in maniera abbastanza frettolosa perché da come dicono su questo articolo una comunicazione veloce visti incontrati non lo so tempo una decina dei minuti ma possibile che un rapporto che comunque no parliamo di Maldini un rapporto che poi ha portato Maldini non solo a vincere come calciatore ma anche come dirigente però qua dobbiamo fare un altro tipo di ragionamento perché purtroppo questo è il brutto se così lo vogliamo definire delle proprietà esterne ovvero quelle proprietà che hanno una squadra in mano ma che la vedono come un'azienda per cui cioè Mestadi che non è Berlusconi Berlusconi avrebbe ragionato in maniera differente questo Mestadi Berlusconi ad esempio sicuramente avrebbe fatto tutt'altro tipo di ragionamento con Maldini con una bandiera con il capitano storico del Milan mentre invece in questo caso arriva un cardinale qualunque ma non per sminuire la figura di cardinale ho capito quello che intendi un'azienda lista esatto nei confronti del calcio cardinale è nulla è varia a zero è un business come lo sono i Fritkin come ormai nel mondo del calcio sono tutti così come Zanga l'Inter eccetera arriva ed esodera il calciatore forse più rappresentativo della storia del Milan poi leva pure forze se vogliamo le forze che per carità non è che tutto gli è dovuto però fossi io sinceramente a conoscenza di un pochino delle storie del Milan forse si parla per poco no ma soprattutto mi farei anche un pochino una domanda dici ok ma sono proprio sicuro di non riusci a trovare un punto d'accordo con sto Cristiano che magari se può proseguire il rapporto visto che comunque lui conosce centomila volte meglio di me quest'ambiente e mi può essere solo che di aiuto io veramente non compre veramente ho tanti punti di domanda che non riesco a risolvere e non credo che verranno risolti a breve secondo me sì è solo questione di tempo ne riparleremo sicuramente perché poi usciranno le cose che dovranno uscire e commenteremo anche quelle vi ringraziamo per la visione intanto la vostra scrivetecela qui sotto nei commenti e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti